Siamo arrivati alla settantunesima edizione, il polifonico sembra proprio godere di ottima salute perché quest'anno l'edizione è ricca in termini di tempo di esecuzione, di qualità dei cori e di difficoltà del programma. Sei giorni di concerti, concorsi, workshop e approfondimento sul mondo della coralità a livello internazionale. Dal 22 al 26 agosto torna così a D'Arezzo la settimana del concorso polifonico internazionale Guido D'Arezzo. Anche quest'anno con un rinnovato interesse nei confronti della manifestazione attestato dalla presenza di ben 13 cori in concorso. Avremo un convegno dedicato alla musica corale del Novecento, una masterclass per la scuola per direttore di coro in cui verrà a gestire tutto il lavoro il maestro Ambros Ciopi che è uno dei migliori professionisti del campo dalla Slovenia col suo coro universitario che ha appena vinto il premio come miglior coro del mondo al concorso internazionale di Hong Kong. Lo stesso coro farà il concerto inaugurale alla chiesa di San Domenico il 23 sera. Poi inizia il vero e proprio concorso al Caurum Hall, quindi all'auditorium Guido D'Arezzo in cui è stato rimesso in funzione questo spettacolare meccanismo di riverberazione computerizzata che offrirà al pubblico un'esperienza d'ascolto veramente interessante. Sabato alla mattina si chiuderà il concorso e al pomeriggio ci sarà il Gran Premio Guido D'Arezzo dove i migliori cori si contenderanno l'ultimo importante premio che permetterà loro l'anno prossimo di andare a incontrare gli altri cori che hanno vinto nei nostri concorsi partner a livello europeo. Siamo di fronte ad un'edizione veramente internazionale che tocca praticamente tutti i cinque continenti che è nelle condizioni di essere un luogo e un momento di certamente esibizione ma anche di approfondimento culturale ma anche di confronto tra tecniche nuove e scienza intorno alla musica.